grazie a tutti ciao ciao mio nome è francesco pignatti benvenuti qua oggi la mia presentazione sarà sulla fiducia online come tornare in forma con un personal trainer allora prima di tutto voglio chiedervi chi di voi ha mai alloggiato in un airbnb ok tantissimi come immaginavo quasi tutti chi di voi invece ha investito in bitcoin ok parecchi fantastico per finire chi di voi ha utilizzato l'application tinder per un appuntamento è un po più difficile tenete la mano a metà strada a parte il signore con la giacca blu là in fondo che ha tutte e due le mani alzate che muore dalla voglia di raccontare le sue esperienze però non mi sembra il caso il punto sul quale volevo farvi concentrare oggi è questo che cos'hanno in comune queste aziende prima di tutto si tratta di aziende con capitale altissimo e zero asset fisici basti pensare che airbnb a metà del 2016 era valutata 30 miliardi davanti a colossi come hilton e marriott poi si tratta di esempi come le nuove tecnologie hanno permesso di creare nuovi business che non esistevano prima su airbnb si può affittare anche un igloo un castello airbnb ha completamente riscritto il concetto e le dinamiche di industria dell'ospitalità e poi si tratta di spazi virtuali che connettono sconosciuti online e permettono quella che è definito come consumo sociale la sharing economy ovvero non possiedi più un prodotto un oggetto ma usufruisci di un servizio la condivisione di asset spazi esperienze in un modo che non si è mai visto prima se ci pensate su airbnb le persone diventano più importanti delle case e poi si tratta di piattaforme che permettono di fare soldi sfruttando i propri asset nel caso di airbnb nelle case ma anche le passioni le competenze qual è dunque quella forza che permette tutto questo il carburante che permette tutto questo è la fiducia che automaticamente regolarmente riponiamo nei confronti di altri perfetti sconosciuti online che cos'è dunque la fiducia secondo la ricercatrice rachel botsman che ha cognato il termine di sharing economy la fiducia è quella forza che ci porta verso il nuovo quell'anello di collegamento fra il noto e l'ignoto la disponibilità a credere a qualcuno è qualcosa che non conosciamo esattamente come se ci pensate la prima volta che abbiamo messo i nostri dati della carta di credito online tutte le volte che brand persone o sistemi ci propongono di fare qualcosa di diverso dal solito e allora facciamo un trust leap o un salto di fiducia nel vuoto nell'ignoto e nella storia dell'umanità ci sono stati solo tre stadi di evoluzione della fiducia ovvero locale istituzionale e distribuita fino a metà dell'ottocento la fiducia era riposta nelle persone più vicine a noi con paesani di cui conoscevamo tutta la famiglia e i discendenti e di fatti pur io se tornassi a vivere nel mio paesino natale di finale miglia in provincia di modena e dovessi chiedere un prestito a mio compaesano farei modo di restituire i soldi altrimenti la mia reputazione verrebbe compromessa e nessuno vorrebbe più fare transazioni con me in paese la fiducia era quindi locale e riposta nei singoli individui poi ovviamente a metà del novecento con l'esplosione delle grandi metropoli chicago new york los angeles londra ovviamente il mio compaesano venne sostituito dalle grandi istituzioni dalle grandi banche la fiducia era riposta in queste istituzioni simbolo di autorità e meno nelle persone si parlava quindi di fiducia istituzionale e basata su permesso però tuttavia sappiamo benissimo che negli ultimi anni ci sono stati numerosissimi scandali messi a nudo da mass media che ci hanno fatto perdere progressivamente la fiducia in queste istituzioni basti pensare all hacking dei telefoni della new corps al scandalo delle emissioni della volkswagen al fatto che un solo banker è finito in prigione dopo l'ultima crisi finanziaria o le panama papers che hanno messo in evidenza come i ricchi sfruttino i paradisi fiscali offshore ma la transizione alla fiducia distribuita nella quale ci troviamo oggi con aziende come airbnb non avviene per colpa di questi scandali ma perché i vecchi players le organizations non sono più adatte all'era digitale all'era del consumo sociale per innescare infatti le dinamiche della fiducia distribuita occorre un processo dove le persone sono le vere protagoniste e decidono chi è il destinatario della fiducia della loro fiducia attraverso gli strumenti digitali ci troviamo in pratica davanti a un mondo due velocità da una parte ci sono istituzioni e organizzazioni che sono ancora ancorate al sistema economico sociale tradizionale e dall'altra invece start up e nuove idee di business che vivono nella nuova dinamica della fiducia distribuita nel novembre 2016 anch'io lascio il mondo istituzionale il mondo corporate per dedicarmi alla mia passione il bodybuilding e la cultura fisica e devo dire che questo è stato un mio personale trust leap un mio personale salto di fiducia nel vuoto perché lasciavo un posto prestigioso presso il centro direzionale europeo di una grande multinazionale per dedicarmi al mondo se potete permettermelo un po più frivolo e superficiale del bodybuilding ma già allora avevo intenzione di sfruttare le nuove tecnologie per andare oltre la palestra e raggiungere obiettivi ben più nobili così quando decisi di lanciarmi di lasciare canon e di fondare iron manager mi fissai questa mission rendere l'esperienza del personal training online superiore a quello offline quando ero ancora canon nel 2010 aprì questo canale youtube iron manager con l'intento di condividere la mia passione per il nato da bodybuilding e la mia storia il mio percorso con altri appassionati il nickname iron manager era nato per dimostrare ad amici colleghi o chi diceva che non riusciva mai ad avere tempo per un po di sana attività fisica che in realtà era possibile stare in forma e diventare anche bodybuilder agonisti senza per forza essere gestori di palestre personal trainer o vivere giorno e notte in palestra bastava solo tanta forza di volontà passione e determinazione e per un po di tempo portato avanti iron manager come mio alter ego online con occhiali giacca e cravatta era una sorta di superman londinese di giorno corporate manager impegnato in meetings interminabili in ufficio e poi dalle sette fino a mezzanotte ancora in ufficio a registrare video e a scrivere articoli per la community del fitness italiana i miei contenuti non sono mai stati particolarmente curati molto amatoriali a volte mi altavo in pigiama e registravo un video e questo fu chiaro la prima volta che un esperto seo ebbe accesso al mio canale youtube la prima cosa che esclamò fu wow fran si vede benissimo che hai fatto tutto per passione qua i titoli non sono ottimizzati non ci sono tags le immagini di copertina dei video non sono clickbait è proprio un casino eppure nonostante i canali iron manager non fossero curati come quelli di tanti youtuber di oggi i social iron manager continuavano a crescere e nel 2015 con il lancio del mio primo ebook filetto il mio sito andò down ben tre volte la prima settimana per i troppi downloads ad oggi quell'ebook è stato scaricato oltre 85 mila volte e già allora trovavo fans di iron manager dappertutto in tutto il mondo dalla stazione centrale di brescia alle spiagge pugliesi fino al bel mezzo di china town a singapore diventato come un punto di riferimento per la community del fitness italiano ovunque andassi dalla grande città al piccolo paese da nord a sud da omegna scorrano sapevo che potevo trovare un tetto sotto il quale alloggiare e una palestra dove potermi allenare ogni mese a londra mi arrivava il caffè da napoli di gennaro la frutta martorana dalla sicilia di salvatore alcuni ragazzi si sono messi anche a piangere la prima volta che mi hanno sentito al telefono e poi si poi hanno cominciato a farmi foto voi sapete che noi personal trainer siamo particolarmente gettonati dalle ragazze quindi potete immaginarvi in realtà foto compiaciute dei risultati ottenuti con il programma e contenti di aver ingaggiato me come loro personal trainer veramente interessante come in così breve lasso di tempo così tanta gente avesse riposto fiducia nei miei confronti mi avesse identificato come una guida un mentore una persona ad ascoltare che potesse aiutarla nel loro percorso di cultura fisica come ho fatto secondo voi a raggiungere questa reputazione avete qualche idea ok il signore laggiù ha detto il fisico sicuramente anche quello però il primo fattore determinante è stata la passione e la spontaneità nel raccontare il mio percorso la mia storia nel natural body building raccontando anche dei miei fallimenti poi sicuramente la coerenza nei miei ideali dall'inizio alla fine diventando uno dei primi ambasciatori in italia del movimento drug free del natural body building molto controcorrente in un mondo che purtroppo ancora oggi è fortemente contaminato dal doping poi un interesse genuino nei confronti dei miei followers e dei miei atleti cercando di evitare loro gli errori che ho commesso all'inizio del mio percorso e poi sì tornando al punto del signore sicuramente molto importante in questo settore come in tanti altri non essere bravo solo a parole ma anche con i fatti walk in the talk ovvero mostrando il fisico salendo sui palchi di gara nonostante i mille impegni quotidiani e leading by example come un vero aero manager poi c'erano sicuramente anche quelle che sono le dinamiche dell'infrastruttura digitale sulla quale ho costruito la mia reputazione con internet abbiamo quella che il sociologo post modernista harvey ha definito la compressione spazio temporale ovvero la rete ci permette di sentirci vicini con gente prima remota e lontana ed è proprio vero che se non fosse stato per youtube non avrei mai cominciato a collaborare per esempio con giordano un ragazzo cubano che si è vissuto a milano ma adesso fa lo uber driver a miami beach o con bruno che mi manda i suoi aggiornamenti da una piattaforma petrolifera in congo con ceglia che fa la hostess per la emirates e guarda i miei video in aeroporto prima di imbarcarsi sul prossimo volo la compressione spazio temporale è servita a me stesso per comunicare in modo istantaneo diretto con i miei followers ai miei atleti ovunque mi trovassi in qualsiasi parte del mondo nel bel mezzo del mal del nord durante una crociera lungo i fiori di norvegesi o nel mezzo del deserto del rajasthan a volte sfruttando anche il fuso orario vantaggioso per rispondere ai miei atleti quando sono ancora letto che dormono in realtà la compressione spazio temporale sta avvenendo anche adesso io sono qua con voi ma sono anche online nel live di instagram iron manager vive prospera nel digitale le stesse strumenti che utilizzo per comunicare con i miei atleti sono gli stessi che utilizzo per comunicare con i miei collaboratori sparsi in tutto il mondo dal web designer che è qui oggi e che vive a riscaldina quindi a pochi chilometri di distanza da questo teatro ad anitec che si occupa del merchandising iron manager a mumbai con molti dei miei collaboratori non mi sono mai incontrato la maggior parte delle nostre decisioni comunicazioni avviene online molti chiedono di collaborare perché hanno fiducia nel brand iron manager e nella mia persona poi è vero che la rete ci ha permesso di sentirci più vicini con gente prima remota e lontana ma se ci pensate bene sentirci più vicini con gente con la quale condividiamo le stesse passioni ideologie valori con social media abbiamo quella che è stata definita come omofilia ovvero la fascinazione reciproca di appartenere la medesima identità è vero che attiriamo sempre gente più simile a noi ma questo avviene in modo ancora più rapido e veloce sui social media social media mi hanno permesso di creare la mia nicchia di pubblico di collaborare con andrea che è qui anche oggi e che fa l'imprenditore di una startup ed è impegnato in meetings dalla mattina alla sera e alle stesse difficoltà che avevo io quando ero a canon nel gestire gli impegni lavorativi e la sua passione per il bodybuilding di corinna che fa la dottoressa e lavora in un pronto soccorso oppure di emiliano che fa il direttore generale di una banca di giuseppe che lavora da facebook a dublino di giovanni che fa il giocatore professionista di poker di luca che fa il panettiere ed è costretto ad allenarsi al mattino presto dopo il turno di notte oppure di alessia che si sta preparando per superare i test della legione straniera di morena che si allena ancora oggi alla tenera età di 65 anni questa è tutta gente che proviene da mondi e settori completamente disparati ma tutti accomunati dalla stessa passione e determinazione nel raggiungere i propri risultati e difatti tutte le volte che ho avuto modo di incontrare di persona gli atleti dell'aeron manager army in occasione degli aeromanager meetups in italia è stato chiaro fin da subito che avevo davanti a me gente con il mio stesso carattere i miei stessi valori passione e determinazione e devo dire che questo ha reso il mio lavoro molto molto più facile il rapporto coach atleta infatti prende tutt'altra dimensione mi rendo conto che non sono più per loro solo un personal trainer ma divento un amico un confidente fidato una persona a cui raccontare tutto ma davvero tutto allora anche se con molti dei miei followers non mi sono mai sentito non mi sono mai visto molti si sentono liberi al primo messaggio di confidarmi dei loro problemi in famiglia disordini alimentari dei problemi con il fidanzato la fidanzata i ragazzi mi chiedono come recuperare la libido e sono il primo a cui le ragazze confidano di avere di nuovo il ciclo dopo anni di amenorrea dovuti a regimi alimentari completamente sballati neolaureati che mi chiedono consigli di carriera dove imparare l'inglese dove alloggiare e cosa mangiare in india ma forse l'elemento che sottovalutiamo che in realtà è potentissimo è questo se abbiamo così tanta fiducia nei confronti del nostro personal trainer allora siamo anche più automotivati a raggiungere i nostri risultati pensateci in realtà io non mi prendo alcun merito non sono altro che una guida un mentore un aiuto ma per raggiungere risultati come questi beh ci devi mettere anche del tuo e allora non mi sorprendo più oggi se c'è gente che compra un annuale di personal training senza neanche contattarmi prima quando mai questo avviene in palestra questa è gente che è profondamente motivata che mi conosce da anni e che crede in me e questo mi dà una carica pazzesca perché ogni giorno provo soddisfazione nel fare qualcosa di buono nell'aiutare gente a trovare fiducia in se stessa a tornare in salute e in forma mi sento più then è da qui questo nuovo taglio di capelli come potete vedere mi sento più libero di esprimere me stesso iron manager non è più solo il mio alter ego online ma con il tempo l'ho fatto emergere come la mia vera identità il mio vero io senza più filtri e convenzioni sociali e negli ultimi due anni ho anche abbracciato la filosofia vegan adesso non dico questo perché mi sento superiore ad altri nel senso e guardate qua sono vegan sono meglio di tutti ma per farvi capire ancora una volta quanto mi sento realizzato con il mio lavoro oggi non solo aiuto gente a tornare in forma ma aiuto anche a creare consapevolezza nei confronti dei diritti degli animali e delle limitate risorse del pianeta aiuto a dimostrare che è possibile essere atleti cruelty free ed avere addominali scolpiti come questi anche senza il consumo di carne uova e latticini abbattendo quindi tutti gli stereotipi legati al mondo del bodybuilding e del fitness io sinceramente non potrei chiedere di più dal mio lavoro sono in paradiso io mi alleno con iron manager perché davvero fa questo lavoro per passione e non spinto da altri motivi altro che red bull io mi alleno con iron manager perché è lui che mi mette le ali perché non si limita a dare dei programmi prestampati o scritti ho imparato cosa vuol dire equilibrio mi alleno con iron manager perché è riuscito a cambiarmi sia mentalmente che fisicamente ciò che fran e il gruppo di iron manager mi hanno trasmesso fin dal primo momento è stato il concetto di equilibrio mi entreno con iron manager perché per me è il top dello top fran mi ha aiutato a modificare completamente la mia concezione di allenamento e alimentazione all'interno di questa disciplina grazie 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 go grazie